Tutti in classe, anche se in campagna l'inizio ufficiale dell'anno scolastico è fissato per martedì 13 settembre, nella maggior parte dei casi la prima campanella suonerà già domani, un giorno prima per poi recuperarlo come festa o ponte durante l'anno scolastico. Inoltre in molti istituti c'è già una lunga pausa all'orizzonte. A causa delle elezioni politiche, dal 23 al 26 settembre tanti studenti resteranno a casa perché le loro scuole ospitano i seggi elettorali. In realtà c'è chi ha fissato l'inizio ancora prima, in molti sono rientrati in aula già venerdì 9 settembre. Secondo i dati del Ministero quest'anno frequenteranno la scuola dell'infanzia 821.970 bambine e bambini. Gli alunni della primaria saranno 2.260.929, quelli della secondaria di primo grado saranno 1.557.403. 2.645.849 ragazze e ragazzi andranno invece alla secondaria di secondo grado. Il 51,1% di questi ultimi frequenterà un indirizzo liceale, il 31,8% un istituto tecnico e il 17,1% un professionale. Il tutto mentre continuano le operazioni di aggiornamento del corpo docente amministrativo. In base ai dati caricati a sistema all'8 settembre sono stati assunti 50.415 docenti, 9.021 addetti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 317 dirigenti scolastici. Dal Ministro Patrizio Bianchi arrivano gli auguri di buon rientro e buon lavoro alle studentesse, agli studenti, ai docenti, ai dirigenti, a tutto il personale scolastico e dell'amministrazione centrale e territoriale. A tutta la scuola italiana, ha detto il Ministro, va il mio ringraziamento per il grande impegno profuso in questi due anni difficili, che sarà la base di questo nuovo anno scolastico e di quel ritorno a una normalità per cui abbiamo lavorato e che consentirà finalmente di tornare a guardarci in viso, di sederci più vicini, di riprendere attività e abitudini che avevamo dovuto mettere da parte. Quegli affetti che poi rimarranno per tutta la vita, questi affetti che si coltivano, si sviluppano e si sviluppano insieme con quello straordinario momento della vita che è imparare. Imparare vuol dire non soltanto apprendere, prendo e metto lì, vuol dire fare proprio, mettere dentro. Dopo gli anni della pandemia si ritornerà dunque a stare in due nei banchi via le mascherine che non saranno più obbligatorie ma fortemente raccomandate per i soggetti fragili, alunni e docenti inclusi. Tornano in classe anche i prof Novax, addio alla Dada anche per chi durante l'anno dovesse contrarre il Covid, tuttavia per rientrare a scuola ci vorrà comunque un tampone negativo. Non hanno però la stessa opinione rete degli studenti e unione degli universitari. Il 12 settembre, scrivono in una nota, sarà il primo giorno di scuola in molte regioni d'Italia, un rientro però complicato e caotico. Dal Ministero arriva poca chiarezza circa le misure Covid per l'ennesimo anno, all'interno di un sistema scolastico e universitario in cui non si è investito, affermano i rappresentanti di rete degli studenti medi e unione degli universitari che per questo motivo inceneranno un flash mob al Ministero dell'Istruzione e davanti a più di 50 scuole in occasione del rientro scolastico.